È polemica tra il sindaco di Barano d'Ischia, Paolino Buono, e Lega Ambiente dopo la diffusione dei dati relativi alla foce del Ruscello, proveniente dalla parte collinare di Nitroti Buonopane, in località Olmitello, dove il campionamento è risultato fortemente inquinato. Il sindaco di Barano sottolinea innanzitutto che all'Olmitello non c'è alcuna foce dove poter fare il bagno. Sempre stando ai loro prelievi, prosegue Paolino Buono, gli altri tre campionamenti eseguiti nella Baia dei Maronti, a mare, sono risultati tutti entro i limiti. E poi c'è confusione sui dati e sui prelievi. Non ci sono dati precisi di dove siano stati eseguiti questi prelievi e quale laboratorio li abbia fatti. Poi che pretendono? Che noi facciamo un'ordinanza sulla balneazione sulla base dei loro dati? Noi ci affidiamo ai dati dell'ARPAC e le acque del mare dei Maronti sono pulite e balneabili. Se poi qualcuno vuole gettare fango sulla più bella spiaggia dell'isola, noi non glielo consentiremo, conclude il primo cittadino. Passano poche ore e arriva la replica di legambiente, per bocca della portavoce di Goletta Verde, Catiusce Roe. Dopo due anni in cui la foce del torrente dell'Olmitello restituisce risultati fortemente inquinati, ci aspettiamo che le amministrazioni si domandino come mai e che prendano tutti i provvedimenti possibili affinché criticità come queste non si verifichino più e non polemiche strumentali e offensive con chi da 30 anni svolge un ruolo utile al Paese, cercando di valorizzare le nostre bellezze e i nostri territori. I parametri di riferimento utilizzati dai tecnici e dai biologi della Goletta Verde, prosegue, sono gli stessi utilizzati dalla Direttiva Europea e dalla Normativa Nazionale per indicare le classi di qualità ambientale delle acque costiere. E Giuseppe Mazzara, Presidente di Legambiente Ischia, chiede al Sindaco un incontro e un confronto per definire e chiarire insieme quali possono essere le cause di un tale risultato. Al netto della vasca di sollevamento, infatti, in un territorio in cui sono oltre 25.000 le richieste di condono ed in cui i depuratori non esistono, può accadere che scarichi illegali e abusivi stiano inquinando il torrente. E nel botte e risposta tra l'amministrazione baranese e Legambiente si è inserita anche la denuncia del capogruppo dei Verdi al Comune di Napoli, Teresa Ginetta Cagliazzo, che si trova in vacanza sull'isola. La situazione del mare Maronti, dal lato della foce dell'Olmitello, è pessima. Ancora, accusa, arriva uno scarico inquinato che inturbidisce il mare. C'è puzza incredibile e tanti bagnanti hanno abbandonato l'aria. Questa situazione si ripete ormai da decenni. Alla Cagliazzo fa eco anche il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che annuncia di aver sollecitato l'ARPAC, che stava con un'imbarcazione in zona, a fare subito dei prelievi e il personale li ha subito effettuati. In questo modo, dichiara, sapremo rapidamente come stanno le cose e qual è l'effettivo livello di inquinamento. La foce dell'Olmitello, prosegue Borrelli, come ogni anno risulta fortemente inquinata, secondo l'analisi di Legambiente. Testimonianza diretta della leggerezza con cui viene gestita l'emergenza di depurazione da anni sull'isola. La gestione dei depuratori a Ischia, a nostro avviso, è stata a dir poco scandalosa. Caldoro è riuscita a non far nulla in cinque anni. Neanche un depuratore è stato realizzato. Dovremmo realizzare noi, conclude Borrelli, quello che il centrodestra non ha mai voluto o saputo fare.